no no niente niente non stai riprendendo no niente subito stava perché si è condensato si è appannato si è appannato bene allora si deve regolare non so ditte proprio calante bella? calante bella e allora come spiegazione è sufficiente o no no allora non credo che tu abbia mai avuto la non so se la non stiamo è calata in? ben da aspettiamo che sono davanti no non ho scelto un min 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 per quelli davanti e di chi ha anche per quelli di dietro esatto per tutti gli altri non ho scelto un min per tanto di tempo ciao così ch resource è anv Perdita ..... non non per si Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.